Io sono un matematico e non sono un giocatore, quindi non vengo a raccontarvi le mie esperienze, sarebbe stato più interessante ovviamente, sicuramente, bensì quello che i matematici dicono o pensano sul gioco. Ma prima, per non far subito brutta figura come esponente della categoria, parto invece da un ingegnere, che è ancora peggio che un matematico, è un ingegnere famoso, che però è diventato famoso non per essere stato ingegnere, bensì per essere stato scrittore, ce ne sono parecchi naturalmente, per esempio Carlo Emilio Gadda, come voi saprete, era anche lui un ingegnere, un grande scrittore italiano, ma questo era un ingegnere russo, che tutti conoscete naturalmente, che si chiama Dostoevsky. Dostoevsky, quello sì che era un bel soggetto per tutte le vostre discipline che incominciano con la P, perché oltre a essere uno scrittore, era come disse poi Tolstoi, Dostoevsky è malato, e le sue opere, disse Tolstoi, sono malate come lui. Questo è interessante perché noi oggi, quando guardiamo a Dostoevsky, non lo consideriamo affatto uno scrittore malato, anzi, perlomeno fino a due anni fa, veniva considerato uno dei padri dell'esistenzialismo europeo, e così via. E non ci accorgiamo invece che effettivamente lui, come background, aveva due grosse malattie, di tipo completamente diverso, perché uno era l'epilessia, che è una malattia ovviamente di un altro genere, un'epilessia che lui ebbe per la prima volta, il primo attacco di epilessia, lo ebbe quando un contadino della tenuta di famiglia ammazzò suo padre. E quel giorno, lui racconta poi in seguito che ebbe il primo attacco, però era un attacco che era isolato in realtà, per tanti anni, credo per un decennio, o forse due decenni, non gli successe più. E gli successe la seconda volta, e poi di lì in realtà poi se la porta dietro per molti anni, credo per tutta la vita, gli successe quando, voi sapete che, per chi non lo sa, lo dico brevemente, la storia di Dostoevsky è estremamente interessante, perché lui da giovane, benché, come ho detto, avesse studiato ingegneria, quindi si era messo sulla giusta strada, e poi però prese la strada sbagliata, cominciò subito a scrivere romanzi, e da giovanissimo, era poco più che ventenne, scrisse un bellissimo romanzo che quasi nessuno legge oggi, da noi naturalmente, in Russia lo si continua a leggere, che si chiamava Povera Gente. Ed era un romanzo realista, un po' alla maniera del verga nostrano, così, e c'erano solo due personaggi che vivevano su un pianerottolo, un uomo e una donna, due proprio poveracci, che vivevano in condizioni estremamente disagiate, e che però si facevano dei piccoli regali, dei piccoli pensieri, e così via. Un romanzo molto toccante, e i critici dell'epoca disse, è nato un nuovo Gogol, abbiamo finalmente un grande scrittore, così. Lui ne scrisse ancora due o tre di questi romanzi iniziali, che oggi poi noi abbiamo quasi dimenticato in Occidente, e poi successe che suo fratello, che era un rivoluzionario, a un certo punto lo attirò in qualcuna di queste riunioni della Russia ancora zarista, naturalmente, dove ce n'erano di queste cellule anti-zariste a Iosa, e alla fine furono arrestati, compreso Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, e furono arrestati, processati, e lui e altri vennero condannati a morte. E lo zar doveva avere, credo, insomma, questo poi lo sentiremo, magari sarà interessante psicanalizzare lo zar stesso, perché doveva avere degli strani gusti, perché lo condannò a morte e poi lo graziò. Però la notizia della grazia gliela diede proprio all'ultimo momento, cioè inscenarono un'esecuzione, portarono i condannati di fronte al pelotone di esecuzione, o meglio, di fronte al palo, dove sarebbero appunto poi stati legati e fucilati, gli misero il cappello sulla testa, quei cappelli a cono che si usavano una volta, è rimasta non una fotografia, perché era prima dei tempi della fotografia, oggi ci sarebbero tutti i video, ma un disegno che qualcuno ha fatto sul momento, ci sono questi condannati schierati, legati, cioè ci fu il rullo dei tamburi, il alzate, puntate, e poi invece del fuoco ci fu quello che lesse, disse lo zar, vi ha graziato, e naturalmente credo che uno impazzì quel giorno e non si riprese più. E Dostoevsky invece ebbe il secondo attacco di epilessia della sua vita, e da quel momento soffrì di questa malattia. E voi sapete che poi finì, lo graziò, ma non nel senso che gli disse torna a casa, pentiti, non farlo mai più, bensì lo mandò al confino, in realtà nei campi di lavoro, quello che Solzhenitzing in seguito avrebbe poi chiamato il Gulag, a vita. Poi lui non ci stette a vita, in realtà ci stette, tra virgolette, solo dieci anni, però, certo, la compagnia che frequentava, diciamo, non era delle migliori, perché c'erano non soltanto scrittori dissidenti, no, ma c'erano ovviamente in maggior parte prostitute assassini, che poi divennero poi, diciamo così, protagonisti dei suoi romanzi successivi, i romanzi che noi conosciamo da Delitto e Castigo in avanti, in realtà sono la storia delle esperienze che lui aveva fatto, appunto, in quei dieci anni. Ma ad un certo punto ci fu un'amnistia, un indulto, e lui fu liberato e ritornò in Russia, diciamo così, nella Russia occidentale, e subito dopo venne in Europa, nel 1862. Capitò in Europa nel momento peggiore che si poteva, perché era l'anno della prima Expo, qualcuno di voi avrà visto quelle successive, una di queste fatta a Milano, ormai credo che siano biennali, ma la prima che si fece, si fece appunto nel 1862 a Londra, e ci andarono tutti, deve essere stata una cosa meravigliosa, ci andava Dickens, per esempio, Charles Darwin, e così via, c'era pure Dostoyevsky, però era un perfetto sconosciuto, e lui rimase traumatizzato, questo è molto interessante, rimase traumatizzato da cosa? Dall'Occidente, perché disse, ma ovviamente veniva da un'esperienza di dieci anni di campi di lavoro, e da uno stato, appunto, che era ancora lo stato zarista, dove c'erano ancora i servi della gleba, e così via, arrivò qua in Occidente e disse, ma questo è un popolo perduto, un popolo che è tutto dedito a cose che non sono quelle profonde dell'anima, eccetera, ha scritto un bel libro, che credo appunto nessuno legga, che si chiama Note Invernali di Impressioni Estive, perché lui il viaggio lo fece d'estate, e il libro lo scrisse d'inverno, in cui dice, peste corna dell'Occidente. Io l'ho letto, confesso, perché non l'avevo letto prima, come molti di noi, mi ero concentrato sulle storie poliziesche, che racconta lui in seguito, ed è, l'ho letto dopo l'inizio della guerra in Ucraina, ed è molto interessante, perché noi pensiamo, appunto, che dice, vi ricordate quando la Bicocca, subito dopo l'inizio della guerra, disse non si deve più fare una conferenza su Dostoevsky, e molti dissero una cosa vergognosa, perché la cultura invece deve andare avanti, e purtroppo se uno legge Dostoevsky si accorge che i russi pensano esattamente come Putin e come Dostoevsky, nello stesso modo. Kissinger se ne era già accorto molti anni fa, quando era vivo, ovviamente, ma è morto da poco ed è vissuto molto a lungo, come sapete, è vissuto praticamente un secolo, è morto centenario, e Kissinger qualche anno fa, dopo già l'invasione della Crimea, aveva detto, bisogna stare molto attenti, perché noi quando guardiamo a Putin pensiamo a Hitler, e invece dice, dovremmo pensare a Dostoevsky, questo per dire come a volte le prospettive sono diverse. Ma perché dico tutto questo? Perché questa è la prima malattia, l'epilessia che lui aveva, che ovviamente in qualche modo poi condizionò anche le sue opere, perché se avete letto L'Idiota, ad un certo punto lui racconta di questa sua esperienza della falsa esecuzione. C'è una discussione in famiglia, quando si parla durante un party e qualcuno dice, chissà come sarebbe l'esperienza di qualcuno che sa che deve morire tra cinque minuti, e uno dei commensali dice, ah io lo so perché c'è uno che era stato condannato a morte, e ci sono due pagine che quando uno poi sa che le scrive uno che in realtà l'ha veramente vissuta quell'esperienza, fanno venire ovviamente la pelle d'oca. Ma c'è una seconda malattia, che invece è quello che interessa a noi questa sera, perché la seconda malattia che Dostoievski aveva era la ludopatia. Lui venne appunto nel 62, fu scandalizzato dall'Occidente, poi però ci ritornò nel 63 e finì in Germania, a Baden-Baden, credo, in quei posti dove c'erano i casinò di una volta, e incominciò un periodo di qualche anno della sua vita in cui lui continuò a perdere al gioco fortune praticamente, le fortune di famiglia con grande disperazione ovviamente prima della sua fidanzata che si era portata dietro, una studentessa che si chiamava, come si chiamava, Apollinaria Suslova, poi la Paolina del romanzo che lui scrisse, e questo romanzo, molti di voi ovviamente se fate queste cose sul gioco l'avrete letto e meditato, che si chiama Il giocatore, è il racconto, ovviamente è un romanzo, è messo sotto forma di romanzo, ma è il racconto della sua malattia, della sua propria malattia. Tra l'altro è il racconto che gli ha cambiato la vita, perché poiché lui aveva perso capitali, appunto come ho detto, nel giro di due o tre anni, e doveva in qualche modo rifarsi e pagare i debiti ai debitori, o meglio ai creditori, era lui il debitore, e a un certo punto aveva fatto un contratto capestro con un editore, e gli aveva detto che gli avrebbe dato un certo numero di libri a una scadenza molto ravvicinata, e ad un certo punto si trovò con l'acqua alla gola, perché la scadenza era tra un mese, e se non avesse consegnato un romanzo nel giro di un mese avrebbe praticamente concesso i diritti a vita probabilmente di tutto quello che avrebbe scritto poi in seguito a quest'editore per quattro soldi. E allora affittò, letteralmente, una stenografa, chiese in giro se c'era qualcuno che poteva stenografare, e gli mandarono questa signora, Anna Grigorievna, che era una ragazza, cioè giovane, credo 25-26 anni, lui la provò per un giorno, vide che funzionava, e le dettò nel giro di meno di un mese il romanzo che si chiama Il Giocatore. E lei avrebbe dovuto stare attenta, perché insomma, uno che in un mese ti racconta una storia di questo genere probabilmente sa di che cosa parla, e quindi non è soltanto sentito dire. E lei poi nelle sue memorie, tra l'altro, che sono molto interessanti, mio marito Dostoievski, chi si intitola, racconta degli anni in cui, ah, naturalmente devo dire come è finita la storia, cioè nel giro di un mese scrissero il romanzo, lui lo dettò e lei lo trascrisse, e poi quindi si liberò da questi debiti, i due si sposarono nel giro di un paio di mesi, e poi partirono per un lungo viaggio, un viaggio di nozze che durò in realtà quattro anni, non perché fossero così innamorati, tutti voi sognereste di fare questo, però ricordatevi che si era fatto dieci anni di gulag prima, quindi non so se poi alla fine il dare avere viene parificato. Ma purtroppo in questi quattro anni, alcuni dei quali passati tra l'altro in Italia, a Firenze, se siete stati a Palazzo Strozzi a Firenze, c'è ancora la targa dove c'è scritto Dostoevsky in questa casa, di fronte a Palazzo Strozzi, non nel palazzo stesso, e dice Dostoevsky scrisse qui l'ultima parte dell'Idiota, quindi cercava di scrivere questi romanzi mentre era all'estero perché in Russia non poteva ancora tornare, non aveva ancora sistemato le sue cose. Ora la cosa interessante per un matematico e anche per un ingegnere è che nel romanzo, a parte il racconto che è estremamente interessante perché racconta effettivamente che cosa significa essere preda di questa malattia, del fatto di voler giocare nel caso suo appunto al casino alla roulette. È una malattia vera e propria, lui non è che voleva farla, anzi sapeva benissimo che andava a mettersi nei guai, sapeva che avrebbe perso tutto, tornava a casa, piangeva di fronte alla moglie, diceva non lo farò mai più, adesso però dobbiamo ripagare i debiti, ma vado domani, gioco ancora gli ultimi soldi che ho e mi rifaccio, eccetera. E qual era il motivo per cui, il motivo razionale, perché poi essendo uno che aveva fatto studi di ingegneria, aveva anche questo aspetto di razionalità, per quale motivo lui pensava di potersi rifare? Si basava su quello che è un procedimento effettivamente perfettamente corretto, se non fosse che poi le conclusioni sono abbastanza sfavorevoli. Lui diceva, per esempio, se uno gioca a rosso e nero, o a testa e croce, diciamo così, dove ci sono equiprobabilità di vincita o di perdita, che cosa si può fare? Beh, semplicemente io gioco, per esempio, appunto sul rosso, se esce benissimo, guadagno il doppio di quello che ho puntato e sono contento. Se però, come probabilmente succede, il 50% di probabilità lo perdo, beh, io ripunto di nuovo sul rosso, mi fisso su questo colore, per esempio, e però questa volta devo puntare il doppio, perché ovviamente mi devo rifare anche della perdita precedente, e quindi ogni volta basta semplicemente che io continui a puntare sempre sullo stesso colore e prima o poi questo colore esce, perché l'equiprobabilità fa sì che alla lunga, no, naturalmente esce, e ogni volta naturalmente devo puntare il doppio, no, e quindi prima o poi mi rifaccio. Se punto un po' più del doppio, ovviamente, mi rifaccio e ci guadagno anche, no, e dov'è il problema? Questo, anzitutto, è un metodo perfettamente corretto, no, si chiama la martingala in matematica, e lui come ingegnere lo conosceva. Ci sono due problemi, naturalmente, no, che è vero che prima o poi quel colore esce, il problema è quando, potrebbe uscire, no, tra dieci, come si chiama, tiri, no, della pallina, potrebbe uscire tra cento, potrebbe uscire tra un milione, no, e quindi il tempo che uno deve destinare, diciamo così, a questa impresa è un tempo che è potenzialmente infinito, e ogni volta, poiché uno continua a raddoppiare questo capitale, no, anche quello, anche il capitale che uno deve avere a disposizione per non finirlo, no, e non finire in bolletta, deve essere un capitale infinito. Quindi è una strategia perfettamente corretta, però in un mondo ideale in cui, appunto, uno può giocare all'infinito e ha a disposizione un capitale infinito che prima o poi gli permette di rifarsi. E naturalmente Dostoevsky non aveva né uno né l'altro, no, il tempo era finito, poi soprattutto è ovvio, no, che prima o poi i soldi che una in tasca finiscono, quindi lui ritornava a casa, no, di nuovo piangente, no, e così via. E naturalmente Freud, no, fu uno dei primi a studiare il caso di Dostoevsky, non tanto il caso del giocatore, ma comunque in quell'articolo famoso, quel lavoro famoso che scrisse su Dostoevsky e il parricidio, il parricidio naturalmente è riferito in parte al trauma che Dostoevsky aveva ricevuto appunto vedendo il proprio padre morire per mano di un contadino, ma poi soprattutto ai fratelli Karamazzo, che come voi tutti sapete è basato su questi quattro fratelli che danno il nome al romanzo, uno dei quali uccide il proprio padre, il romanzo è il racconto poliziesco di chi è stato, ma tra l'altro ben congegnato, perché tutti e quattro potevano avere naturalmente ciascuno le proprie motivazioni psicologiche, fisiologiche, eccetera, economiche per farlo, no, e quindi è un romanzo. Tra l'altro non so se voi l'avete letto, no, è un romanzo molto lungo, ovviamente, è ponderoso, ma è solo l'introduzione al vero romanzo, perché Dostoevsky, se voi leggete le sue lettere, i suoi diari, a un certo punto ebbe questa idea che voleva raccontare appunto una storia e disse però prima di cominciare a raccontare la storia devo raccontare gli antefatti e il primo volume di questa storia che lui voleva raccontare sono i fratelli Karamazzo, poi lui morì, quindi ci sono soltanto gli antefatti, no, la vera storia non l'abbiamo mai conosciuta, benché sono rimaste più o meno degli schizzi, non si sa più o meno cosa sarebbe successo all'Iosha che è questo santo, quasi un'impersonificazione di Gesù Cristo, così, no, in realtà poi avrebbe perso la fede, sarebbe diventato un rivoluzionario e così via, no, insomma, però quello non è mai stato scritto. Ora questo è l'approccio dell'ingegnere, è uno che ha una teoria che gli dice che può effettivamente giocare alla roulette, prima o poi vincerà, no, e la applica in maniera sconsiderata e perde spesso tutto quello che ha. Tra l'altro, come voi sapete meglio di me, naturalmente, io ho detto subito che non ho mai giocato, proprio per evitare di cadere dentro queste cose, non che sapessi che sarei caduto, però avevo dei motivi per crederlo, perché nel caso del cioccolato, per esempio, o dei dolci, sono esattamente in quel caso lì, no, cioè io quando mi trovo dei dolci davanti, no, boom, boom, cerco di mangiarli e quando mi regalano, ad esempio, delle scatole di cioccolatini, ecco, quella è una malattia che non è la ludopatia, ma come si potrebbe chiamare, dolcipatia, no, mi regalano una scatola di cioccolatini e io dico la porto a casa, no, la porto a mia moglie impacchettata, non la voglio nemmeno aprire, eccetera. Poi però dopo un po' che è lì, no, uno dice, vabbè, uno lo potrò mangiare, no, quindi allora slego il fiocchetto, apro la scatola e prendo uno, poi però uno naturalmente crea una discontinuità, no, un disequilibrio, quindi dico ne mangio una fila, no, una fila è più equilibrata, e poi vado avanti, no, spesso dico, insomma, metà della scatola può essere così e spesso la scatola finiscono e quindi so che in un casino, per esempio, farei una brutta fine, per fortuna non ho quell'attitudine, diciamo così, ho la voglia di giocare. Però noi matematici, qui adesso parlo invece in astratto e in generale, noi matematici siamo molto interessati ai giochi, non tanto i giochi che forse voi avete in mente o quelli che voi conoscete perché le giocano le persone che vi stanno vicine o alle quali siete interessate. Per i matematici i giochi sono in senso molto esteso, tutte quelle situazioni in cui ci sono, diciamo che si può immaginarle come delle persone appunto, delle persone, dei giocatori che spesso sono soltanto due, sono i giochi a due persone, ma ovviamente poi le cose si generalizzano, possono essere più persone o addirittura coalizioni di persone, ma si può cominciare a pensare a una situazione in cui ci sono soltanto due persone, due contendenti, diciamo così, che si oppongono o si contrappongono e ciascuno dei quali ha degli obiettivi, sa quali sono i propri obiettivi, sa quali sono gli obiettivi dell'altra persona, sa quali sono le mosse, diciamo così, che può giocare nel senso generalizzato, nel senso di dire quali sono i comportamenti che può tenere sia lui che l'altro, e si trova da matematico a dire quale sarebbe il comportamento razionale di fronte a una situazione di questo genere. Poi farò degli esempi ovviamente, perché in astratto è un po' difficile capirci, però per indicare qual è il framework, diciamo, di questa teoria, che non a caso si chiama teoria dei giochi. Agli inizi era nata, a dire il vero proprio per studiare i giochi classici, cioè le carte, per esempio, gli scacchi, la dama, il go, se conoscete questo gioco giapponese, e tanti altri, il tris, tutti qualunque i variegati giochi che si possono giocare. E l'interesse del matematico è di sapere se, perché ovviamente lo si vuole studiare da un punto di vista tecnico, se c'è quella che si può chiamare una strategia vincente. C'è un modo per uno che si mette in questa situazione di dire se io seguo questa strategia vinco di sicuro. Questo dipende non soltanto dai giocatori, perché uno potrebbe dire, beh, dipende se tu sei sufficientemente intelligente o sufficientemente bravo, se hai già giocato abbastanza a quel particolare gioco, e quindi tu sei in grado di vincere. No, non è questo. È il fatto di chiedersi se di fronte a un gioco che ha certe regole, e poi appunto ne facciamo degli esempi, quel gioco ammette delle strategie vincenti. Cioè se uno non le conosce sono fatti i suoi, però le strategie ci sono, e chi ce l'ha? Ce l'ha il primo che gioca, ce l'ha il secondo, oppure ce l'hanno tutte e due per arrivare alla parità, e così via. E questa teoria, teoria dei giochi, iniziò, è una teoria molto giovane, perlomeno per i tempi a cui siamo abituati noi in matematica, che sono tempi, non dico biblici, perché non è la parola che preferisco, ma comunque tempi millenari, perché i teoremi matematici hanno cominciato a essere dimostrati, credo, circa 3.000 anni fa, più o meno, che non è poco, perché se pensate la scrittura è di 5.000 anni fa, 5.500 anni fa, che vuol dire che poco dopo che la scrittura è stata inventata, già si facevano teoremi matematici, anzi, ma questa è una parentesi che non c'entra niente, quindi potrei anche non dirla, però se uno parla parentesi, poi la dice, in realtà ci sono dei buoni motivi per credere che la scrittura sia nata come linguaggio matematico, perché la scrittura è qualcosa di estremamente innaturale, cioè fare dei segni astratti che individuano o indicano poi delle cose concrete e poi in seguito addirittura delle idee astratte e se stesse, è una cosa non immediata, non sappiamo quanti animali abbiano un pensiero cosiddetto simbolico, gli uomini ce l'hanno, ma da dove gli arriva questo? Ci sono motivi per esempio di credere che più o meno sia nato ovviamente nella mezzaluna fertile, a Susa, non la città del Piemonte naturalmente, ma la città del Medio Oriente, dove ci sono queste stratigrafie che risalgono appunto a 5.000 e circa 500 anni fa, cioè quindi 3.500 anni prima dell'inizio della nostra era, in cui si vedono, si cominciano a vedere delle cose di ceramica, delle specie di palle di ceramica, rotonde appunto, come sono di solito le palle, perché agli inizi l'aritmetica, il contare, ovviamente quello lo si è fatto molto probabilmente con le dita, cercando, oppure con i sassolini, da cui poi deriva il nome calcolo, che voleva dire appunto sassolino, e pensate però, immaginatevi una situazione in cui c'è per esempio un pastore, o meglio un allevatore, che ha un greggio di pecore, per esempio, sta in un paese vicino a Susa, e vuole vendere le sue pecore, ovviamente l'allevatore le allevano, però manda qualcun altro con il suo greggio di pecore, ci sono magari 25 pecore che vanno e devono arrivare al mercato dall'altra parte, dove poi c'è colui che le prende e le venderà al mercato. Come fa quello che riceve le pecore a sapere che sono esattamente tante quanto sono state mandate, già all'epoca c'erano problemi che infliggono, che sono inflitti all'umanità ancora oggi da certa gente. E allora qualcuno pensò per esempio di avere quest'idea, di dire io ti do un sacchettino con dentro lo stesso numero di sassolini che corrisponde al greggio, e tu gli dai il sacchettino a quello a cui dai anche le pecore, lui conta e sa che c'è lo stesso numero di pecore di quanto ci sono sassolini. Il problema è che, tu mi dai il sacchetto, ma io posso togliere, o anche aggiungere, ma sarei poco furbo a farlo, potrei togliere i sassolini e mi frego qualche pecore. E allora questi eleamiti, che sono questa popolazione misconosciuta appunto di 5.500 anni fa, si inventarono questo gioco molto interessante, ma io ti frego perché invece di darti un sacchettino di pelle legato con un cordino, ti faccio una palla di ceramica in cui ci metto dentro il numero di sassolini giusto, ma poi la cuocio e poi te la do e tu gliela devi dare intatta però, e lui la rompe quando tu arrivi, come un uovo di Pasqua, così, e dentro c'è un numero di sassolini che deve corrispondere al greggio che ti ho dato. Queste cose si chiamavano bolle di accompagnamento, un'espressione che oggi uno non sa bene da dove arrivi, perché dice un foglio che è una bolla di accompagnamento, ma deriva da questo fatto che erano proprio bolle, nel senso di palle di accompagnamento. Poi però, poiché questo è un processo complicato, perché io devo fare la palla, poi la devo cuocere, ed è un peccato romperla, perché la usi una volta sola. A qualcuno venne in mente di dire, ma scusa, io ci metto dentro metti 20 sassolini, però faccio dei segni fuori che corrispondono ai sassolini dentro, quindi faccio magari il disegnino di una pecora e poi ci metto per esempio 20 trattini che corrispondono. Allora se io mi fido, arrivo con le pecora e dico ok, so che tu sei una persona così, non la rompo, mi fido di quello che c'è scritto sopra che in effetti corrisponde a quello che mi hai dato. Poi però in questa estratigrafia ad un certo punto le bolle si sgonfiano, come spesso succede nei mercati azionari. Come mai si sono sgonfiate queste bolle? Perché qualcuno ha cominciato a capire, ma scusate, se io metto i segni sopra, non c'è più bisogno di mettere i sassolini dentro, bastano quelli a indicare il fatto, c'è il disegno della pecora, ci sono tanti trattini o dei simboletti così, e poi si vedono queste bolle che diventano delle tavolette, piano piano su queste tavolette si incidono, in questa stratigrafia è quasi come leggere la storia della scrittura, si vedono tutti questi segni, si cominciano a vedere anche delle tavolette in cui per esempio ci sono dei buchi dentro che corrispondono, per esempio si pensa a moltiplicare per dieci, un simbolo indica un certo numero e poi un simbolo con un buco dentro indica la potenza di dieci, e così via. E poi in seguito si cominciano a vedere degli ideogrammi, delle figure sempre più complicate, finché si arriva poi a una scrittura ideografica, e per questo che dicevo, questa è la parentesi, che adesso chiudono e torniamo alla teoria dei giochi, c'è motivo di pensare che prima della scrittura, non solo alfabetica ovviamente e anche ideogrammatica, ci fosse un sistema di notazione di tipo aritmetico che serviva appunto per fare i conti. Ma chiuso questo, allora dunque la teoria dei giochi appunto nacque verso gli inizi del novecento, e il primo risultato che fu dimostrato in questa teoria dei giochi è un risultato interessante anche se, adesso che lo dico uno, lo devo dire un paio di volte per far capire che cosa significa, perché per esempio prendete un gioco finito, cioè come quelli che tipo che ho citato prima, la dama, gli scacchi, che prima o poi arrivano alla fine, perché quando tutti i pezzi per esempio nella dama sono stati mangiati, oppure agli scacchi si arriva in situazioni appunto in cui, sì, magari si possono ripetere sempre le stesse mosse, però ci sono regole nel gioco dei scacchi, dopo un certo numero di ripetizioni basta, la cosa è finita. I giochi possono avere tre possibili tipi di soluzione, diciamo, cioè ci può essere il primo giocatore, il bianco diciamo così, che vince, oppure il secondo giocatore, il nero, che vince, oppure i due giocatori possono pareggiare, questo è una situazione ovvia, in quasi tutti i giochi che si giocano, uno dei due vince, oppure c'è una situazione di parità. Ma questo signor Borrell, che tra l'altro non era uno, soltanto un matematico teorico, perché poi divenne ministro della difesa del governo francese, quindi subito queste cose vedete come hanno applicazioni a cose molto concrete, in particolare alla teoria della guerra, perché sono questioni in cui ci si contrappone, e a volte sono eserciti che si contrappongono. Lui dimostrò questo teorema, che nei giochi finiti o il primo giocatore ha una strategia vincente, o il secondo giocatore ha una strategia vincente, oppure c'è una strategia che se tutti e due i giocatori seguono questa strategia come si deve, finiscono in patta, che è diverso da quello che ho detto prima. I giochi, in ogni gioco o uno vince, o l'altro vince, o i due pareggiano. Ma qui la cosa è diversa, perché qui si dice che in questi tipi di giochi, per esempio gli scacchi o la dama, o c'è una strategia che il primo segue e vince in ogni caso, comunque l'altro risponda, perché lui sa, a seconda delle mosse che l'altro fa, come rispondergli e arrivare a vincere, oppure c'è il secondo giocatore, la strategia, questo è più raro ad immaginarlo, perché quando uno gioca a scacchi per esempio lo sa che giocare con i bianchi è un vantaggio, quindi si immagina che se c'è una strategia per un giocatore probabilmente è il primo che muove, che ha questo vantaggio, oppure c'è una strategia che tutti e due conoscono e tutti e due possono seguire e finiscono in patta. Questo fa sì che quei giochi lì, dal punto di vista matematico, siano poco interessanti, eccetto per il fatto che si sa che quella è la situazione, ma non si sa chi è che ha effettivamente la strategia. Per esempio nel caso della dama, solo recentemente, una decina di anni fa, si è scoperto, poi alla fine si è dimostrato, spesso con l'aiuto del computer, perché bisogna analizzare un numero enorme di possibili situazioni. La dama ovviamente è un gioco finito, le possibilità sono un numero finito, però parecchie. Nel caso degli scacchi, per esempio, le partite sono 10 alla 120 possibili, le possibili partite, però se voi pensate che 10 all'80 sono le particelle dell'universo, allora 10 alla 120 partite vuol dire che sono parecchie. Quindi è vero, sono finite, però per noi umani è come se fossero infinite. Comunque nel caso della dama si sa che la situazione è proprio quella della parità. C'è una strategia che se tutti e due i giocatori seguono, possono sempre pareggiare. Certo che se uno conosce queste strategie il gioco diventa poco interessante. È come Tris, non so se voi conoscete questo Tris che ha una scacchiera di 3x3, si tratta di mettere delle croci o dei cerchietti. E lì si sa che il primo può vincere, si sa quello che deve fare, mettere il suo primo simbolo nel centro, in modo da controllare il centro della scacchiera, eccetera. E allora quando uno è giocatrice e però conosce la strategia, beh, certo che non c'è più gusto a giocare, e allora bisognerebbe farlo senza pensarci, però noi matematici forse siamo un po' pervertiti e facciamo queste cose. Ora, questo tipo di giochi, considerare i giochi come situazioni semplicemente di competizione o di confronto anche, che non deve essere necessariamente bellicoso, sono sempre stati usati, o perlomeno nei tempi recenti. Per esempio, molti di voi avranno giocato, soprattutto i maschietti, quando si giocavano ancora i giochi per maschietti, adesso non è più possibile, ma una volta si giocava ai soldatini. Forse adesso si gioca ai soldatini con le bambole, però, di modo che si fa la guerra con le bambole, siamo tutti contenti per tutti e due i sessi, eccetera. Beh, giocare con i soldatini è una cosa che i soldati, i militari, hanno sempre fatto in una maniera estremamente sofisticata. I prussiani, ad esempio, avevano un gioco che si chiamava Kriegspiel, che era una specie di materia obbligatoria per coloro che facevano carriera militare. Era un gioco molto complicato in cui bisognava disporre i propri soldati divisi, naturalmente, in vari battaglioni, eccetera. Ed era un addestramento alla guerra, praticamente. La guerra si imparava, erano simulazioni, potremmo chiamarle così, simulazioni di guerra. Un gioco appunto che era stato, anche gli scacchi sono quello, perché se uno guarda la storia degli scacchi, o guarda la scacchiera, semplicemente, si accorge che anche quelle sono simulazioni di guerra. Ci sono dei cavalli, per esempio, ci sono gli alfieri, ci sono i pedoni, che sono i fanti, naturalmente, così. C'è un re e una regina, ovviamente, che corrispondono. Ricordo che una volta ho incontrato l'ex campione del mondo di scacchi, Spaschi, vi ricordate quello che giocò quelle famose partite con Fischer 50 anni fa? E parlando così, a un certo punto si parlava di politica. Lui era immigrato, era un russo, è immigrato a Parigi e mi disse sa, ma io sono monarchico. E gli ho detto, ma a me sembrava una cosa strana essere monarchico, è vero che in Russia c'era lo zar, forse disse zarista. E lui mi dice, beh, sa, lei deve capire, ho passato una vita a difendere il re, essendo giocatore di scacchi, ovviamente, quindi era abbastanza naturale che dovesse fare il monarchico. E appunto, dicevo, i militari giocano questi giochi e alcuni di questi giochi, come gli scacchi, non sono altro che astrazioni di quello che una volta erano simulazioni di guerra. Tra l'altro gli scacchi, come molti di voi sapranno, derivano dall'India ed erano molto più complicati. Per esempio, a metà della scacchiera c'era una specie di fiume che bisognava passare in una maniera più complicata. Adesso è scomparsa la scacchiera, è semplicemente otto per otto. E quindi uno si può chiedere perché si giocano questi giochi. Oggi i giocatori di scacchi li giocano perché si divertono a fare quello, naturalmente, o la dama e così via. Però i giochi spesso nascono perché sono un tentativo di immaginare quello che potrebbe succedere in situazioni che ci interessano e cercare di prevenirle. Se uno si trova per la prima volta in una certa situazione è molto probabile che non si comporti nella maniera giusta, che non segua la strategia giusta. E come si fa? Certo, uno impara per errori, tentative ed errori. Però invece di fare gli errori sul campo, magari pagando di tasca propria, è bene invece farlo prima, quindi simulare le possibili situazioni. E' anche il motivo per cui si pensa, per esempio, che si gioca, per dire, alla lotta, quando i ragazzi giocano tra loro. Addirittura Bateson scrisse, mi ricordo, un saggio sul gioco molti anni fa, in cui lui diceva che, ad esempio, i gatti o i cani, ma soprattutto parlava dei gatti in quel caso, dimostrano di avere lo stesso atteggiamento anche loro, quando i gattini, ad esempio, che si azzannano a vicenda, però voi sapete che quando i gatti azzannano o anche graffiano non possono fare molto male, però non si fanno male, stanno giocando. E allora Bateson diceva, ecco, si comincia ad avere un pensiero di livello superiore, quando si comincia a dire, guarda che io sto facendo una cosa, ma la sto facendo per finta, sto giocando, no? E dire che sto giocando vuol dire che tu non ti devi arrabbiare, io fingo di morderti, fingo di azzannarti, però tu non mi devi rispondere no, come se fosse un azzanno vero, no? O un attacco vero. E i giochi di guerra erano quelli, appunto, cercare di mettersi nelle situazioni che ci si potrebbe trovare, in cui ci si potrebbe trovare in guerra, no? E cercare di risolvere. Però quello era ancora un modo un po' poco sofisticato, no? Giocare con i soldatini. C'è qualcuno che lo fa, eh? Per esempio Alessandro Barbero, che voi conoscerete, no? Il storico, no? Che racconta la storia in queste maniere molto accattivanti, no? Mi diceva una volta, dice, oh, io la battaglia di Austerlitz l'ho vinta e l'ho persa 50 volte, no? E gli diceva, ma in che senso, no? Cioè, oh, perché ci sono ormai in rete, evidentemente, no? Non so dove giochi, no? Delle simulazioni in cui uno può decidere il numero di soldati che ha, la disposizione che può scegliere, no? Eccetera. Quindi rifare le grandi battaglie della storia. Io credo che, tra l'altro, se uno studiasse la storia in questo modo, cioè invece di fargli studiare, no? Le date, i nomi dei generali, le battaglie, eccetera, ma facendogli rigiocare le battaglie, facendogli vedere, vedete, cosa ha fatto Napoleone qui, no? Cosa ha fatto Lozano dall'altra parte, no? Sarebbe estremamente interessante. Ora, poiché il tempo passa, ma questo lo sapevo, naturalmente, anche senza guardare l'orologio, volevo farvi qualche esempio di quello che succede nella teoria dei giochi, tre, quattro esempi di cose molto comprensibili, senza farvi calcoli, no? Ovviamente, per farvi capire che cosa succede in questa teoria dei giochi, che oggi è diventata una cosa fondamentale sia per gli Stati, perché, per esempio, il Presidente degli Stati Uniti, ma credo già da decenni ormai, lui almeno una cinquantina d'anni, ha un team di esperti di teoria dei giochi che, ogni volta che c'è una situazione di conflitto internazionale, gli portano delle soluzioni, gli dicono, guardi, questa è la situazione, noi siamo qui, questi sono i nostri obiettivi, no? Queste sono le cose che possiamo fare, no? Sappiamo che gli altri invece hanno questi obiettivi, perché abbiamo le spie di lano, oppure li conosciamo, sappiamo quali sono le loro cose, no? E qual è la situazione, qual è il comportamento razionale che dovremmo tenere? O meglio, prima ancora, ci si chiede, c'è un comportamento razionale in una situazione del genere? Oppure è bene non mettersi in certe situazioni perché finisce male, perché non è possibile comportarsi in maniera razionale? Queste sono le domande che ci si fa nella teoria dei giochi. Anzitutto c'è una nozione che si chiama equilibrio di Nash, forse il nome di Nash l'avete sentito nominare perché è diventato famoso per altri motivi, più legati appunto alla vostra specialità che non a quella della matematica, è stato il protagonista del film, o meglio la sua vita è stata raccontata nel film Beautiful Mind e lui fu il primo insieme ad altri due a prendere un premio Nobel per l'economia per la teoria dei giochi e fu lui a inventare appunto questa nozione che adesso vi dico di equilibrio di Nash e nel tempo, questo erano credo il 94, quindi sono passati 30 anni, in questi 30 anni almeno una dozzina di premi Nobel dell'economia sono stati dati a teorici dei giochi, questo per far capire quanto la cosa sta diventando importante, non solo la nozione di gioco ma anche la teoria matematica del gioco stesso e le sue applicazioni. L'equilibrio di Nash è una cosa interessante perché anzitutto ammette e capisce quella che spesso l'esperienza ci dice che è l'evidenza, cioè che magari ci incontriamo due persone, ciascuno di noi ha i propri obiettivi, però è impossibile che tutti e due raggiungano i propri obiettivi, cioè spesso il meglio non si può ottenere, se fosse così nel mondo sarebbe bello, ma non è così. E allora visto che di solito il meglio non si può ottenere, l'equilibrio di Nash è cercare di evitare il peggio, cioè che è un po' il contrario, quello che diceva Calvino appunto in una notte d'inverno un viaggiatore, a un certo punto dice quello, lui lo disse quasi in maniera inconscia, credo, non sapeva di queste teorie sicuramente perché all'epoca quando lui era vivo non erano ancora note e disse appunto una cosa di questo genere, il meglio di solito non si può ottenere e il meglio che si può fare è evitare il peggio. E quindi gli equilibri di Nash sono quelle situazioni in cui due contendenti diciamo sono in una certa situazione, fanno quello che devono fare, quello che scelgono di fare e una volta che si sono comportati in un certo modo, sanno anche quello che è stato il comportamento dell'avversario e dicono toh guarda, se io avessi saputo prima che lui si sarebbe comportato in questo modo, io comunque avrei fatto quello che ho fatto, cioè non mi pento, lui avrebbe potuto comportarsi in tanti modi, ma si è comportato in quello, ma se io avessi saputo prima che si comportava così, mi sarei comportato lo stesso nel modo in cui mi sono comportato. Se tutti e due hanno questa percezione del loro comportamento quello è un equilibrio di Nash, cioè hanno evitato il peggio, dice vabbè ok, perlomeno non potevo cambiare la situazione con un cambiamento unilaterale diciamo di comportamento. E la cosa interessante è che la teoria dei giochi ci ha insegnato che quello che sono stati gli insegnamenti dell'etica per millenni praticamente, sono stati insegnamenti molto ingenui, in genere i pensatori che ci danno consigli etici da Gesù nei Vangeli, Confucio negli Analectano, Kant con l'imperativo categorico, credono che ci sia un tipo di comportamento che va sempre bene, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, comportati come se il tuo comportamento fosse preso come modello da tutti nella loro vita. E questa invece la teoria dei giochi ci ha fatto vedere che chiaramente non è così, non è che c'è una massima che poi una volta che uno la adotta poi dopo può usarla sempre e ha trovato la via giusta. Tra l'altro attenzione perché ne ho citate due appunto che sono le due più famose, quella occidentale diciamo evangelica e quella orientale confuciana, che sono due modi di comportarsi completamente diversi. Forse a prima vista non si sente con l'orecchio perché sembrano due massimi simili, uno dice vabbè voglio dire la stessa cosa, ma nei Vangeli Gesù dice fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questo è molto pericoloso perché pensate un masochista che faccia così, io sono masochista e quindi voglio che mi si faccia male e allora ti faccio del male a te, questo è molto seccante ed è una massima aggressiva questa nonostante il Vangelo venga in genere considerato come l'esatto contrario. Invece la massima confuciana che è quella negativa è appunto una massima di contenimento, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Adesso vi faccio qualche esempio, due o tre esempi per vedere come queste cose succedono. Tra l'altro queste cose oggi sono state codificate dai matematici in questa teoria, quindi sistematizzate anche, però spesso gli esempi che si prendono sono esempi che sono stati fatti nel corso della storia, dei millenni addirittura, dalla Bibbia stessa a tanti libri educativi. Per esempio il primo esempio che vi faccio è quello che si chiama la caccia al cervo, che è tratto da uno dei libri di Rousseau. Rousseau che dice sta cercando di convincerci del contratto sociale, come dobbiamo collaborare uno con gli altri, eccetera. La situazione si semplifica quando ci sono soltanto due persone e vogliono andare a cacciare un cervo. Perché in due? perché ovviamente il cervo è complicato, è grande, da solo è difficile cacciarlo, bisogna mettersi appostati in due posti diversi, cercare di chiuderlo, così. Quindi bisogna andare in due. E lui racconta, beh, si va in due a cacciare il cervo, siamo tutti e due d'accordo. Ad un certo punto uno di questi due vede passare una lepre, per esempio. e dice che faccio? Dice siamo qui appostati, lui è là, io sono qua. Certo è meglio, no? Se aspetto che passi il cervo, no? Perché il cervo è grande, così. E però è difficile anche da prendere. La lepre sono quasi sicuro che la prendo. La prendo, però è piccola, poi non la posso dividere, eccetera. Cosa devo fare? Devo collaborare con l'altro? Cioè rimanere in postazione, dire ok, lepre, prossima volta, adesso sono concentrato qui, oppure non collaborare e lasciare che l'altro magari creda che io sono anche lì appostato, quindi lui rimane appostato, io invece corro dietro la lepre e poi me la vado a cucinare e a mangiare. E la teoria dei giochi ha analizzato questa situazione ed è interessante, no? Perché ci sono due equilibri di Nash in questo caso, che sono, ah, dunque, anzitutto notate che questo gioco è un gioco simmetrico, no? Perché i giochi possono anche essere asimmetrici, poi magari vi faccio l'esempio di uno che lo è, molto famoso, no? Ma i giochi simmetrici in cui ciascuno ha esattamente gli stessi obiettivi, no? Le stesse possibilità di comportamento, eccetera. Naturalmente gli equilibri di Nash, cioè i comportamenti razionali, devono essere cose che tutti e due devono seguire allo stesso tempo, perché se il gioco è simmetrico anche il comportamento che è razionale deve esserlo, no? E ci sono due comportamenti che i due possono tenere e sono tutti e due se la battono, no? Perché magari passano due lepri, no? E uno dice, vabbè, io corro dietro la lepre, no? E l'altro dice, io corro dietro la lepre, tutti e due credono di aver fregato l'altro, no? E in realtà hanno fatto tutte e due le cose, no? Hanno fatto agli altri ciò che non avrebbero voluto che fosse fatto a sé, no? Oppure invece tutti e due, e questo è un equilibrio di Nash, no? E l'altro invece è, e quell'altro, no? In cui tutti e due invece aspettano, vedono passare la lepre e dice, ok, no, io rimango qui, no? Perché? Perché faccio all'altro, cioè collaboro quello che vorrei che lui facesse a me. Vedete che nella stesso gioco, no? Ci sono tutte e due le possibilità, quella confuciana e quella evangelica, però sono tutte e due razionali e soltanto che in quel gioco lì, che è un gioco non particolarmente violento, diciamo così, c'è una scelta di razionalità. La scelta in cui tutte e due scappano e, diciamo così, si sceglie il rischio minore, no? Perlomeno sono sicuro di prendere la lepre, però ho anche il vantaggio minore, perché non prendo il cervo, no? Quindi preferisco rischiare meno e rosicare meno, no? E l'altro invece è l'esatto contrario, invece. Magari tutti e due hanno aspettative maggiori e dicono, beh, no, certo potrei guadagnarmi la lepre, però magari, no, preferisco... è un po' l'uovo oggi o la gallina domani, no? Nel primo caso si sceglie l'uovo, in quel caso la lepre, no? E nel secondo caso invece si sceglie la gallina domani. Però questa è una situazione interessante perché fa vedere che in certe situazioni, in certi giochi di competizione, diciamo, ci possono essere due tipi diversi di comportamento, razionali tutti e due, e sta all'attitudine, diciamo così, alla valutazione del rischio o del vantaggio di ciascuno di sceglierne uno invece che l'altro. C'è un secondo gioco invece che è molto interessante perché è un gioco, molti di voi avranno visto, c'è un famoso film degli anni 50 con James Dean che si chiama Ribelli senza causa, da noi in inglese era intitolato così, da noi è stato intitolato Gioventù bruciata. E questi ragazzacci, in confronto a quello che poi si è visto in seguito, però comunque giocavano questo gioco molto pericoloso, ve lo ricorderete, che si trattava di prendere delle auto vecchie e di andare con due auto vecchie, erano in due che giocavano questo gioco pericoloso, di correre verso un burrone e l'idea era di saltare giù o frenare, oppure saltare giù all'ultimo momento. Vince chi è che è più, diciamo, macio e frena per ultimo. E questo è tra l'altro il gioco della corsa agli armamenti, è stato Bertrand Russell negli anni 60 durante la crisi di Cuba che disse attenzione perché la Russia e gli Stati Uniti stanno giocando con le armi nucleari, un gioco che è l'analogo di questo qua, si corre verso il burrone e l'idea è, io voglio essere il secondo a fermarmi, non voglio essere il primo perché in quel caso faccio vedere che sono un coniglio, invece che una lepre in questo caso. E la cosa interessante è che qui praticamente ci sono due equilibri, i due equilibri sono quelli ovvi, uno di questi si ferma perché ha paura e l'altro va un po' più avanti e tutti e due si fermano prima del, come si chiama, del burrone, no? Però non sono equilibri di Nash, no? Perché uno si ferma ma l'altro invece, quello che si ferma non avrebbe voluto fermarsi perché in quel modo dimostra di essere un codardo, no? Concede la vittoria all'altro, no? E l'altro equilibrio è il contrario, no? E l'altro che si ferma, no? E così via. Quindi ci sono due equilibri ma nessun equilibrio di Nash, non c'è nessun comportamento razionale in quel gioco lì. E questo è un grande insegnamento perché si è capito che effettivamente a volte ci sono dei giochi che se uno si mette a giocarli, no? E possono portare semplicemente alla disfatta. E tutti i giochi legati alla guerra in genere sono proprio giochi di questo genere e il problema della teoria dei giochi è che ti dice appunto che non li puoi risolvere semplicemente scegliendo la strategia giusta, ma l'unico modo di risolverli è cambiare gioco. Per esempio quello che ha fatto Papa Francesco l'altro giorno, no? Che a un certo punto esce e scandalizza tutti, no? Dicendo basta, no? Dobbiamo a un certo punto decidere, smettere di giocare questo gioco della guerra, alzare bandiera bianca. Infatti lo scandalo è proprio quello. Si dice ma noi stiamo giocando questo gioco, no? Io magari sto facendo una partita a scacchi con un'altra, arriva uno e mi dice no, vieni di qua, no? Che andiamo a giocare a Dama. Ma scusami, sto giocando a questo gioco, no? E' molto difficile cambiare gioco. Eppure la teoria dei giochi ci dice appunto questo, che questo è un gioco, la guerra in generale o gli armamenti, nel caso particolare atomici, no? E' un gioco che sarebbe meglio non giocare. Ci fu quel famoso film, l'avrete visto, War Games, in cui alla fine c'è quel computer che simula anche lì poi l'attacco nucleare praticamente e alla fine il computer va in tilt perché capisce in maniera empirica che il gioco non si può giocare e appunto dice strano gioco, dice l'unico modo di vincere è non giocare. Cioè non bisogna mettersi in quelle situazioni, bisogna evitarlo prima che il gioco cominci perché quando comincia poi diventa troppo tardi. un altro caso invece, molto interessante anche, che oggi si chiama il dilemma del prigioniero, ve lo dico in una maniera un po' diversa da quella originale in cui, che ha dato il nome a questo gioco, non c'entra nei prigionieri in questo caso, ma è una situazione che spesso si presenta nella vita. Per esempio vi ricordate che una volta c'erano questi comportamenti di cui si comprava per corrispondenza, c'erano le merci, anche adesso si compra per corrispondenza, ma ormai ci sono fatti i furbi, ma una volta le cose erano complicate, non c'era internet, eccetera, quindi uno scriveva, dice mi mandi per favore questa merce. E il venditore doveva mandare la merce, però lui mandava, ma come faceva a sapere che l'altro pagava? E i due contendenti erano chi compra e chi vende. Il venditore dice io, sì, quello che posso fare è mandare o non mandare la merce, e il compratore a sua volta dice quello che io posso fare è mandare o non mandare il denaro. E se uno lo analizza dal punto di vista razionale, qui non c'è nemmeno tanto bisogno di usare la teoria dei giochi, che comunque fa la stessa cosa, mettetevi dal punto di vista del compratore, per esempio, ordinate, che ne so, qualunque bene, un vestito, un mobile, eccetera, e poi dovreste pagare, e dice, ma scusate, facciamo questo ragionamento, dunque io non sono sicuro che quello mi manda la merce, se lui non me la manda, il fatto che io paghi sono uno scemo, perché ci perdo e la cosa finisce lì, ma se lui me la manda, io potrei essere furbo, non pago, e ci guadagno ancora di più, quindi comunque l'altro si comporti, che lui mi mandi o non mi mandi le cose che vuole vendere, è meglio che io non paghi, perché se non me le manda sarei sciocco a pagare, e se me le manda sono furbo a non pagare. Quindi il compratore non paga, ma il venditore fa lo stesso ragionamento, il gioco è simmetrico, dice, ma scusate, questo mi paga o non mi paga? Se non mi paga, è inutile che gli mandi la merce, perché la perderei, e se mi paga invece è meglio, mi paga, io lo frego in questo modo. Cioè, in altre parole, il comportamento razionale, o meglio, la ragione, ti porta a dire che l'unica cosa che il venditore deve fare è non mandare la merce, e l'unica cosa che il compratore deve fare è non pagare, ma allora la vendita per corrispondenza però va a farsi benedire, no? Cioè, e questo è molto strano, infatti si chiama dilemma del prigioniero, perché in realtà ti dice, a volte il comportamento razionale porta a fare delle cose che non hanno senso, no? Cioè la razionalità e la ragionevolezza sono cose in contraposizione fra loro. E lì in quel caso non c'è nessun equilibrio, tra l'altro, non esistono equilibri, quindi nessuna massima funzionerebbe. Ho fatto solo esempi di giochi simmetrici, quindi finisco facendo un esempio di gioco asimmetrico, che è un'analisi che è stata fatta del famoso giudizio di Salomone. Vi ricordate che di fronte a Salomone arrivano due madri con un bambino, che ciascuna delle madri dice, il bambino è mio, lui deve giudicare chi è, e ad un certo punto una delle madri dice, beh, insomma, stiamo qui discutendo, no? Tutte e due diciamo che è nostro figlio, taglialo a metà, no? O meglio, forse lui che lo dice, no? Credo, il re Faggio, no? Dice, poiché tutte e due dite che è vostro figlio, io lo taglio a metà, ve ne do metà per una, no? E una dice naturalmente no, no, no? E l'altro dice sì, no? Ovviamente no, e questo è interessante perché quello è l'equilibrio che la razionalità vorrebbe dire. Perché? Perché questo gioco non è simmetrico, le due donne non sono nella stessa posizione nei confronti del bambino, la madre vera ovviamente ha un atteggiamento diverso dalla madre fasulla che voleva semplicemente rubare il figlio a quell'altro. E questi sono solo esempi, naturalmente, di quello che la teoria dei giochi fa, oggi è molto più estesa, tanto per cominciare, non soltanto si interessa di giochi a due, ma si interessa di giochi a tre o più. E il passaggio da due a tre è un passaggio, è un grande passo per, come direbbe Neil Armstrong, non un piccolo passo per il giocatore, ma un grande passo per il matematico. Perché nel momento in cui ci sono tre giocatori, le situazioni si complicano perché ci possono essere alleanze. Allora uno può giocare, non sono tre che giocano uno contro l'altro, ma a volte due si possono o tacitamente o esplicitamente coalizzare contro qualcuno. Le complicazioni arrivano dal fatto che le coalizioni possono cambiare nel tempo, ovviamente. Quindi sono mobili, instabili. La teoria dei giochi da tre giocatori in su è molto più complessa. Infatti gli ultimi premi Nobel sono stati presi in anni seguenti proprio da gente che ha studiato questi giochi. Uno dei quali è l'israeliano Hauman, che forse qualcuno di voi conosce, che è un tipo molto interessante, che ha fatto tra l'altro la tesi su guerra e pace. Ma guerra e pace non di Tostoi, ma proprio le applicazioni alla guerra e alla pace della teoria dei giochi. E lui sostiene che questo è il motivo per cui il monoteismo funziona, perdono, non il monoteismo, la monogamia, anche il monoteismo, ma la monogamia funziona. Perché in genere il matrimonio è fatto uno a uno? Perché quando si entra, si comincia, è il problema dei tre corpi, come si chiamerebbe in fisica, che diventa complicato da gestire. Se qualcuno di voi fosse interessato, per esempio, ci sono stati dei teorici dei giochi, uno in particolare si chiama Stephen Brams, che ha scritto un intero libro che si chiama Biblical Games, Giochi Biblici, in cui è un ebreo, ovviamente, che si è riletto la Bibbia, il Vecchio Testamento, e l'esempio che ho fatto adesso del giudizio di Salomone è uno di quelli, appunto, è andato a vedere nelle situazioni che racconta la Bibbia quali sono i comportamenti che i, diciamo così, contendenti potevano seguire, e spesso sono quelli che poi sono stati seguiti. Cioè, in qualche modo, la teoria matematica non è che va per i fatti suoi e si inventa delle cose che poi nessuno avrebbe pensato prima, semplicemente sistematizza in maniera razionale e tecnica, diciamo così, matematica, quello che spesso magari la gente intuisce, appunto, con la propria intuizione, e che poi mette in pratica anche in casi storici. Bene, io mi fermerei qui,